Case verdi e mercato immobiliare in rosso? Forse no. Le nuove norme europee che prevedono una svolta green per le abitazioni stanno creando preoccupazioni, specie in una regione come la nostra, con realtà urbane relativamente piccole. Secondo i dati, addirittura il 60% circa degli alloggi in Liguria rientrerebbe nelle ultime due classi energetiche. Da Fiaip Savona arrivano però rassicurazioni. C'è tempo per correggere alcune direttive ed essere comunque in regola con la normativa europea, che prevede di ridurre del 16% i consumi energetici entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, per arrivare nel 2050 alle zero emissioni. La buona notizia è che l'Unione Europea non ha più messo i paletti del 2030 che gli immobili devono entrare in classe E e dal 2033 in classe D. Diciamo che il mercato immobiliare ha preso un respiro perché gli immobili che noi avevamo in vendita, molti di questi acquirenti ci chiedevano subito la classe energetica per poter quantificare i lavori da fare per la ristrutturazione, per rientrare in questi parametri. Parametri e obiettivi che invece, dicono gli agenti immobiliari, andranno di pari passo con i piani messi a punto dal governo. L'Unione Europea ha cercato di diversificare le nazioni e dando la possibilità, cosa molto importante, ad ogni Stato di fare un loro cronoprogramma per poter arrivare a questi paletti. Il calendario per arrivare al passaporto green prevede dal 2030 tutti gli edifici residenziali privati di nuova costruzione a emissioni zero e con impianti fotovoltaici. Dal 2040 scatterà il divieto di installare nuove caldaie a gas. Dal prossimo anno non saranno più amesse agevolazioni fiscali per gli impianti di riscaldamento di base, ma solo per gli ibridi. Esenzioni possibili per edifici agricoli, storici, alloggi indipendenti entro i 50 metri quadri e seconde case abitate per non più di quattro mesi l'anno.